se in due anni tu hai fatto un dito in due anni e mezzo massimo due ma fai sempre cagare sono passato a giocare da mors e tastiera su un pc con 20 fps genitore 1, genitore 2 genitore 1, genitore 2 or ready? quando, quando li? poiché, mi devi andare in qualche fassore alle armi una morte? non spalla bende come arma mi sa che sono morto con me o che è? un'altra morte? uno spara bene uno sta qui dentro forse no no però sto qua fuori un altro morto ma che ti devo lì a gallega come la merda qua arrivo arrivo 21 aia no 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 non ci credo aiutami se sta uno a terra lui deve curare tu mi curi no no curami curami oh da me 50 graccato arriva a terra bravo ah voglio lo scar e il rampino no voglio il rampino non c'è nessun gennappa in sottofondo è solo la vostra immaginazione perchè è solo così bello di entrare nella vostra casa aspetta oh c'è gente no no c'è gente si 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 ma scendici scendici perchè mi sta mirando 35 a 35 ah ok così arriva arriva si 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 è fatto bene 35 e uno rotto a te morto uno ok ok morto bravo ma cazzo duro fuori 6 dietro di me dietro di me non arrivo vabbè mi hanno cecchinato da dietro non ci vedo mi salta questa arrivo arrivo ti corre ti corre ti corre ti corre si 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 attento attento che c'è da dietro uno morto ok sto qua sta qua sta qua dov'è stare si si è preso il muro ci sono presi il muro ci sono fatte guarda mi faccio No, ma che cazzo Ehm, 50 Oh, mi distruggo tutti Ahia Sento Buona, buona, di Valerio Eh, ma arriva l'altro L'ho chiuso Ahia, ho fatto malissimo Aspetta, mi sto ancora Guarda, vincere Ok, mi chiude Vincere Gente qua sotto con la barca Sì Arriva da te Ah, è da te Ah Questi qui se ne sono andati Non so dove No, no, ma sono qui, ce li ho sentiti Ok, posso Dai, non è entrato in corpo 23 a quello in stessa Ah, ci resta uno Oh, oh, double barret Dai, direttore Cazzo Niente, quella Non lo so Se vuoi Trampino Eh, va Minchia Non ci credo Mi è arrivato il razzo Poco nella bocca Eh, io ho solo mini Tranqui, tranqui Oh, cazzo Mi cuciono No, vincere Mi hanno bloccato Eh, niente Dai Cazzo Benvenuto Sto razzo in bocca Me ne vado Eh, sì Mi cazzo 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 Sì, Mariano Non fa la voce sexy con Mariano, però Cazzo ride La voce sexy Dai che siete forti, io sono morto, eh, il cazzo Io l'avevo detto che doveva farlo con te, che mi cazzo è andata a finire da te Non lo so C'è? Tanta gente forte è andata a finire da te Ma non ha capito un cazzo Ho detto, tanta gente forte sta giocando con te Che cazzo c'è? Mi ha detto siete forti A me è l'agenza Io ho detto, ma io sono morto, che cazzo Non sarei morto Tu non sarei stuato Allora, ma tu sei a un livello troppo fluido Allora, va bene Ma sempre sono certi Ma io sono persoente Ma io sono autant Ma io sia detectors Foot Assolutamente Qu'è Le C'è del loot sotto mi sembra, lo sotto a destra Uno no No, credo Un po' di no Quindi il bloom di starva quando spari da lontana è fortissimo Questa è la scena? Questa è la scena? Questa è la scena Questa è la scena Il mazzo di più prende secondo me No, 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 no Non ho mai scoperto Non sa quanto deve essere andati Vincere Quanto cazzo l'ho provata per l'ala Pazzesco Hai vinto? Eh ma va Ma va Se non ti perdevo Lasciamo Si è addormentato il piede Che schifo di arma Che schifo di arma E lì un padplay avrebbe fatto solo headshot Capito? E tu non hai voluto giocare col padplay Padplay è forte No, aspetta Oh, senti Ha detto pure Oh, senti Capito? Oh, senti Si sente forte ragazzi Ovvio Ma svegliati Se in due anni tu hai fatto un dito In due anni e mezzo Massimo due Ma fai sempre cagare Sono passato a giocare da mossa e tastiera Su un pc con 20 fps Genitore 1, genitore 2 Genitore 1, genitore 2